Pesta finisce nel sangue 21enne accoltellato da un coetaneo Urbino 57enne trovato morto nel bagno di un centro commerciale Dossi pericolosi in via Solferino la denuncia di un residente VL e VIS KO fra rimpianti e recriminazioni sorride il Fano Una buona serata a tutti i telespettatori di Rossini TV canale 633 delle Digitale Terrestre E ben ritrovati al nostro appuntamento della sera con Rossini News Il nostro telegiornale con tutte le notizie della provincia di Pesaro Urbino In questo lunedì 5 ottobre Notiziario che apriamo con una notizia di cronaca che ha turbato il weekend pesarese Poteva infatti finire in tragedia una lite fra giovani Che in una casa di campagna a due passi dal quartiere Muraglia Ha portato ad un accoltellamento di un ragazzo di 21 anni Vediamo il primo servizio Toni accesi, diverbi, un accesso negato a una festa e forse qualche bicchiere di troppo Che di certo non ha aiutato a stemperare l'animosità E' sembrata questa la combinazione di cause che nella notte fra sabato e domenica Ha visto un 21enne moldavo venire accoltellato due volte alla schiena Da un coetaneo durante una festa privata degenerata nella violenza L'episodio è avvenuto oltre questo cancello In una casa di campagna in strada dei condotti In una zona rurale non lontana dal quartiere Muraglia e dal poligono di tiro Ma lontana dai luoghi della movida pesarese Il ragazzo non è in pericolo di vita Tant'è che si è presentato alle 3 di notte al pronto soccorso sanguinante Ma senza aver ricorso a una chiamata all'ambulanza Al pronto soccorso di Pesaro gli è stato riscontrato come quei tagli non fossero profondi E non si fossero avvicinati a ledere organi vitali La versione del giovane moldavo ai sanitari è stata quella di essere caduto Su alcune imprecisate pietre o ferri appuntiti Una versione che non ha convinto i medici che hanno segnalato l'accaduto alla questura Interrogato il giovane moldavo ha provato ad attenersi alla versione raccontata ai medici Poi la verità è gradatamente venuta a galla Ma non del tutto Visto che il giovane ha deciso di non sporgere denuncia Gli inquirenti indagano sulla ricostruzione di una festa In cui si sono radunati una trentina di giovani fra italiani e stranieri E a questi si sarebbe aggiunto un altro gruppo nel corso della serata Con il quale si è accesa una lite che ha portato all'accoltellamento Forse il colpevole è un ragazzo di origine campana Ma l'ipotesi è ancora al vaglio degli inquirenti Che nella notte di sabato sono intervenuti in strada dei condotti Ma i ragazzi coinvolti si erano già dileguati Le indagini stanno vagliando alcuni testimoni Che però hanno saputo fornire solo informazioni frammentarie e nessun nome Il corpo senza vita di un uomo di 57 anni è stato ritrovato sabato notte ad Urbino Nel bagno del parcheggio del centro commerciale di Santa Lucia in via Gramsci Si tratta di un classe 1963 di Urbania divorziato con un figlio Già noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti e disagi da dipendenze A trovarlo è stato il servizio di vigilanza durante una ispezione di controllo E subito è scattata la segnalazione ai carabinieri di Urbino Si sospetta una morte per overdose E per questo è stata disposta l'autopsia per conferme tossicologiche Ed ora parliamo di prevenzione al coronavirus con il sindaco di Pesaro Matteo Ricci Che attraverso i suoi canali social si è esposto pubblicamente nell'invitare a scaricare l'applicazione Immuni Ricci giudica un impegno morale scaricare questa applicazione e partecipare a un programma di tracciamento dei contatti Il sindaco ha anche annunciato che il test drive Covid-19 si farà di nuovo in strada dei cacciatori Al centro operativo del comune di Pesaro e servirà tutti i comuni della Valle del Foglia Restando in tema di Covid-19 nell'ultima giornata sono stati rilevati 22 nuovi casi di contagio in regione Uno soltanto in provincia di Pesaro e Urbino Ed ora lo spazio dedicato alle segnalazioni di voi telespettatori di Rossini TV Che vi invitiamo a continuare a indicarci al numero whatsapp dedicato alle segnalazioni 370-366-7210 Oggi parliamo di via Solferino e delle condizioni della strada in alcuni punti del manto Che fanno preoccupare residenti e conducenti di mezzi che transitano in questa zona Vediamo il servizio realizzato da Daniele Romagna Via Solferino risulta essere una delle direttrici principali che collega l'ingresso del centro storico cittadino A diversi quartieri tra cui Pantano, Villa San Martino e Tombaccia Una segnalazione che arriva però da diversi cittadini denuncia le condizioni del manto stradale Nel tratto adiacente alla rotatoria di via Ponchielli e via Giolitti Le ramificazioni degli alberi posti al centro della carreggiata con il passare del tempo e degli anni Hanno creato dei dossi che in particolar modo potrebbero aver conseguenze spiacevoli per i mezzi a due ruote Le preoccupazioni e le richieste per trovare una soluzione al problema Espresse non soltanto da residenti e conducenti non hanno però trovato ancora riscontro E nel frattempo gli avallamenti della strada continuano a rappresentare un rischio per la stabilità di moto e ciclomotori in movimento Come ci racconta in prima persona un cittadino che si trova a percorrere quotidianamente la via Perché volte la pratico per venire a trovare i miei e quindi mi trovo a trovarci a questo avallamento Che è molto pericoloso, tocca stare attenti, se no si rischia di cascare o provocare un incidente La strada non è liscia, ci sono sti avallamenti che creano dossi Quando arrivi con uno scooter, con la moto è molto pericoloso La cosa è stata già sollevata da parecchie volte da altri enti, altre persone, anche da residenti Però ancora tuttora non si è verificato nessun intervento, nessuna risposta Ci chiede di intervenire il primo possibile gli enti competenti Fortunatamente ancora non è stato niente, ma non dobbiamo aspettare che succeda qualcosa prima di mettere a posto Si è tenuto questo pomeriggio a Santa Maria dell'Arzilla il funerale di Fausto Cecchini Morto a 72 anni dopo una breve malattia Cecchini era molto noto a Pesaro e in particolare all'Arzilla per le sue tante passioni Dalla politica alla fotografia fino al suo lavoro in un'impresa di materie plastiche per l'edilizia Questo pomeriggio a Monteciccardo si è tenuta la cerimonia di insediamento del nuovo municipio incorporato nel comune di Pesaro Cerimonia che ha visto il giuramento dell'eletto presidente di municipio Claudio Bonazzoli Alla presenza del sindaco Matteo Ricci Bonazzoli si è presentato alla tornata elettorale con una lista unica Che è corsa in solitaria e che è stata eletta grazie al raggiungimento del quorum degli aventi diritto al voto di Monteciccardo Sabato Pesaro ha reso omaggio a Dario Fo e Franca Rame Personaggi simbolo del teatro italiano e di una vita trascorsa tra arte e impegno civile Al premio Nobel e all'attrice è stata infatti intitolata la corte di Palazzo Mazzolari Mosca Contenitore culturale che accoglie ormai da decenni proposte e attività legate al teatro Alla scopertura della targa era presente anche Matteo Fo, nipote e presidente della fondazione Fo Rame Il dottorato in Global Studies dell'Università di Urbino avrà ospite il premio Nobel per l'economia Joseph Stiglitz Il grande studioso della Columbia University interverrà nell'ambito di una conferenza internazionale Che si terrà online l'8 ottobre in collaborazione con l'Associazione Italiana di Studi Economici Comparati Il tema unificante è quello delle disuguaglianze fra paesi e all'interno dei sistemi nazionali Del loro legame con lo sviluppo economico e sociale Verrà presentato mercoledì 7 ottobre alle ore 17.30 nella sala del Consiglio Comunale di Pesaro Il libro L'Enigma di un Genio Capire il linguaggio di Federico Fellini dell'autore iraniano Yamashid Ashug L'iniziativa è promossa dal CIF di Pesaro, dall'Associazione Culturale Il Faro Dalla Società Operaia di Mutuo Soccorso di Pesaro con il patrocinio del Comune di Pesaro E' stato un weekend di tanti eventi sul territorio provinciale per altrettanti appuntamenti Che accompagneranno tutta questa settimana il palinsesto delle prime serate di Rossini TV Scopriamo quali nel prossimo servizio Da appuntamenti tradizionali tenutisi nel rispetto delle norme anti-Covid Fino a convegni medici di portata nazionale Quello che ci lasciamo alle spalle è stato un intenso weekend di appuntamenti Seguiti dalle telecamere di Rossini TV A cominciare dal cuore della città di Pesaro Perché Piazza del Popolo ha sperimentato la 66esima mostra a mercato dei fiori ornamentali Ma la prima al tempo del Covid Una festa dei fiori molto partecipata Ma nel rigoroso rispetto delle norme di distanziamento sociale E obbligo di mascherine Rassegna più giovane ma di successo crescente Anche la fiera di San Michele Arcangelo Che nel fine settimana a Talacchio di Vallefoglia Ha completato la sua quarta edizione Con il secondo dei due weekend programmati All'insegna dell'eccellenza agroalimentare del territorio E concentrandosi su riflessioni di respiro nazionale Con importanti convegni di confronto fra esperti Uno speciale sulla fiera di San Michele Arcangelo Che si potrà rivedere su Rossini TV Sabato 10 ottobre alle 19.30 Questa domenica Villa Berloni si è tenuto invece Il convegno benessere in menopausa Un confronto fra esperti per indagare un momento particolare Nella vita di ogni donna Da vivere come metamorfosi all'insegna della positività Convegno organizzato da Confcommercio Pesaro Urbino E in particolare dal gruppo Salute, Bellezza e Benessere Coordinato da Stella Scarpa Da terziario donna di Patrizia Caimi E da 50 e più di Alberto Dolci Lo speciale del convegno sarà visibile integralmente su Rossini TV Mercoledì 7 ottobre dalle 21.15 Venerdì alla stessa ora sarà invece trasmesso il convegno della FAND La Federazione Associazioni Nazionale Diabetici Che si è svolto al Grand Hotel Michelacci di Gabicce Mare Da venerdì a domenica rendendo per tre giorni La città gabiccese centro nevralgico delle riflessioni sulla malattia E sulla tutela delle migliaia di italiani Che soffrono della patologia diabetica Salute e sport Un binomio che è proprio delle Fisioradi Center Che nel weekend ha organizzato l'evento Everesting Una scalata al seguito di Enrico Tiberi Nel ripercorrere in salita e in discesa In sella a una bicicletta Gli 8848 metri di dislivello del Monte Everest Il più alto del pianeta Un'avventura che si potrà seguire nello speciale di Rossini TV In programma martedì 6 ottobre alle 21.15 Ed ora la pagina sportiva Come ogni lunedì andiamo a vedere quello che è accaduto nei vari campionati Nel prossimo servizio ci concentriamo infatti su basket, calcio, calcio a 5 e pallavolo Due sconfitte in due partite Ma la seconda fa molto più male La Carpegna prosciutto basket Pesaro perde a Cantù la sua prima trasferta stagionale per 81-72 E Masticamaro per un quarto quarto di totale blackout Con ben 4 minuti senza andare a canestro Risultati decisivi nell'economia del punteggio finale In cui è il play Robinson ad azzeccarne davvero poche In una VL privata di Delfino per un problema muscolare Non basta Kane, autore di 14 punti e 15 rimbalzi In un momento sembrava che inerzia andava a nostra parte Ma l'ultimo quarto onestamente abbiamo giocato male, male, male Ma poco lucidi, poco fluidità la palla in attacco Una difesa non connessa come dovrebbe essere E canto vince con pieno vertu Dal basket al calcio è stata una trasferta urticante Per la VL sconfitta Modena 3-1 nella prima trasferta dell'anno Un risultato esageratamente punitivo Per una gara completamente viziata da un abbaglio Quello della terna arbitrale Che in apertura di ripresa non vede un gol di Ettore Marchi Ignorando, in assenza di goal line technology Un pallone che ha varcato la linea di porta Poteva essere il 2-1 per la VL dopo che lo stesso Marchi Al nono minuto aveva pareggiato il vantaggio modenese di Tulissi Dopo la delusione la beffa, il Modena vince con un gol di testa di Ingegneri E con una punizione di Sodinia a tempo scaduto Dispiace, c'è rammarico perché secondo me Avevamo affrontato la partita Esclusi i primi 10-15 minuti iniziali Dovevamo un po' contratti Abbiamo fatto una buona partita Visto anche l'avversario che avevamo davanti Dispiace ma Più che mi dà fastidio è che nel momento in cui Poi vado a vedere il guardalineco calciato Lui è 15-20 metri dietro E quindi per lui diventava... c'è una cosa semplice come questa È diventata difficile C'è una cosa semplice come vedere che era nettamente gol È diventato poi difficile Non dobbiamo piangerci addosso Non dobbiamo trovare scuse Non dobbiamo pensare che Quello che abbiamo fatto oggi Sia colpa di qualcun altro Se lo abbiamo portato a casa punti La realtà è che noi siamo Una squadra che ha un'identità Abbiamo tanti giovani che devono crescere E stanno crescendo molto bene Abbiamo under e over che in questo momento qui stiamo cercando di recuperare Abbiamo un gruppo solido e forte Ma noi non siamo partiti per vincere il campionato Siamo partiti per crescere E questa partita ci ha insegnato tante cose Con Legnago una partita in mano la pareggi Oggi con una partita giocata in un certo modo E dopo aver creato tutte queste situazioni Dove per un motivo o per un altro Non sono andate come sono andate Non ci devono dare la forza della presunzione Ci devono dare l'umiltà di riprepararsi Contro un'altra squadra fuori casa come Ravenna Che è completamente verso dal Modena Di tutt'altro umore l'alma Juventus-Fano Che dopo il Perugia ferma un'altra big Uno a uno col Padova nello stadio Mancini a porte chiuse Il Fano ha ciuffato il pare con Barbuti A replicare il vantaggio veneto di Della Latta Andare sotto contro una squadra di questo tipo E comunque rimediare anche se su rigore E comunque rimanere in partita Io penso che significa che la strada Che abbiamo intrapreso è quella giusta Certamente cercheremo anche di migliorare Sotto l'aspetto dei risultati Però mi comporta la prestazione Che avviene dopo quella di Perugia Altrettanto bella e importante Perciò diciamo che siamo contenti Di questo avvio di campionato Anche se era un avvio difficilissimo Perché contro due corazzate di questo campionato Abbiamo onorato Abbiamo ottenuto il campo in modo giusto Meritavamo anche qualcosa di più Però insomma accettiamo questi risultati Guardando avanti ancora con più fiducia Non è ancora campionato per l'Ital Service Ma è stato comunque significativo Per la squadra di Calcio 5 pesarese Tornare in campo sabato Otto mesi dopo l'ultima partita Nelle quattordicesimo memoria al Nino Pizza I pesaresi hanno battuto 3-1 l'Olympus Roma Con doppietta di Canal e gol di Borruto Capitolo volley Dopo due vittorie Arriva la prima sconfitta Per la Megabox Vallefoglia Che in Puglia cede 3-7 a 0 a Cutrofiano Ancora sport e parliamo di nuoto Con la società Vissesauro Che ha ripreso l'attività agonistica Per l'annata 2020-2021 Un'annata speciale Non solo perché segna la ripartenza Dopo gli affanni del Covid-19 Ma perché ora la Vissesauro Team Può contare anche su un atleta olimpico Come Simone Sabbioni Vediamo le interviste realizzate da Andrea Sabattini Stiamo cercando di muovere i primi passi Dopo il periodo di lockdown Che ha fermato tutte le attività agonistiche Con non poche difficoltà ci stiamo muovendo Però dobbiamo reagire Per cercare di ritornare a una pseudonormalità E poi passare in futuro Mi auguro il prima possibile A una normalità completa Stiamo vedendo anche in altri sport Casiche di contagio Che stanno riaumentando Questa preoccupazione immagino ci sia sempre Quotidianamente Ma io anche come insegnante Diciamo vivo nella preoccupazione Di questi contagi Però ecco forse In piscina è un ambiente Un pochino più sicuro Tra virgolette Perché clorato l'ambiente Dovrebbe attutire un attimino Gli effetti di questo virus Stiamo a vedere Dobbiamo e possiamo farcela Tutti insieme Sono tanti i giovani atleti Le giovani atlete Chi è un po' più grande Chi è un po' più piccolo Come è comunque anche bello Lavorare con i ragazzi Questo dopo tanti anni È ancora bello È ancora entusiasmante La passione che ci anima Insieme a Luisa Il presidente Ormai ci conosciamo Da 40 anni Sappiamo Cosa vuol dire Trattare con i giovani Valutando poi Le situazioni positive e negative Delle varie generazioni Che abbiamo avuto Sotto le nostre ali Materne e paterne Parte una nuova stagione Quest'oggi Penso una delle stagioni Un po' più complicate Da ricominciare Anche se comunque L'attività era già ricominciata Poi dopo il covid Come si sente lei da presidenta? Diciamo felice Ma preoccupata Preoccupata Perché la stagione scorsa È stata molto pesante E quindi ripartire Ci dà la carica E la voglia Per lavorare bene Però sempre con questa Paura di dover Sospendere da un momento all'altro Speriamo che vada tutto bene Per la ripartenza Abbiamo anche queste Una bella novità Il dorsista di Riccione Sabbioni Che entrerà a far parte Della nostra società Della Visauro Nuoto Con il progetto Road to Paris To Paris 24 Che è un progetto Nato l'anno scorso E sostenuto Dalla società UGC Che ci ha sponsorizzato In questo grosso progetto Che aiuta i ragazzi giovani A crescere In questo momento particolare È un evento fantastico Quello di oggi Diciamo che È un esordio bello Con una torta di compleanno Con lo zaino Come regalo Della Visauro Nuoto Sono arrivato a Pesaro È un percorso Fino al 2024 È un bel percorso Che ci farà crescere Tutti quanti Sì la Visauro Nuoto Che Si partirà E si riuscirà Secondo me A raggiungere Traguardi Davvero importanti Perché È pieno di giovani È una squadra Con tantissimi giovani E si sa come fare Per cercare di andare In un livello alto Quindi Tutti i presupposti ci sono E noi Siamo qua Per mettersela tutta A breve termine C'è il Tokyo 2021 Covid permettendo Speriamo si facciano E ce la mettiamo tutta Adesso bisogna qualificarsi Ancora A dicembre c'è la prima Ma La seconda Marzo Quindi Ce la mettiamo tutta Adesso abbiamo un ritiro Alivigno Per 20 giorni In altura E A dicembre cerchiamo Di raggiungere Il tempo limite E Ci sono tutti i presupposti Il fisico c'è Risponde bene E Con gli allenamenti Stiamo faticando tanto Ce la stiamo mettendo tutta C'è questa Nuova news Che mi stimola tanto Perché comunque È un qualcosa di nuovo Noi gli atleti Abbiamo sempre bisogno Di qualcosa Che ci stimoli Quindi Questa è una buona cosa E anche in vista 2024 Tante speranze Speriamo di Riuscire a venirci in conto Con tutte le esigenze Che ci sono Per la squadra Quindi Io faccio un in bocca al lupo A tutti quanti Anche Della Visauro Pesaro E Io ci sono Per qualsiasi Per qualsiasi cosa E questa era L'ultima notizia Del nostro Telegiornale Prima di salutarci Vi ricordiamo L'appuntamento Con la nostra Prima serata Per chi Se lo fosse perso Quest'estate Polpo di fulmine Cucina in vasocottura È stato il nuovo Programma culinario Di Rossini TV Che ha avuto Grande successo Ogni lunedì Verrà riproposto Questo format E questa sera Alle 21.15 Con replica Alle 22.30 Andrà in onda La prima puntata L'informazione Su Rossini TV Vi ricordiamo Che ritornerà Puntuale Domattina Alle 7.20 Con la rassegna stampa Buongiorno Rossini In diretta TV Dai nostri studi Vi ricordiamo Sempre anche Il nostro numero Per le segnalazioni Numero Whatsapp 370-366-7210 È davvero tutto Per questa edizione Di Rossini News Noi vi salutiamo E vi auguriamo Una buona continuazione Di serata Con i programmi Di Rossini TV Per la rassegna stampa